Dalla memoria all'impegno, l'incontro organizzato da Libera Puglia ieri a Molfetta per ricordare Sergio Cosmai e Michele Fazio, vittime innocenti delle mafie, attraverso le parole rispettivamente di Tiziana Palazzo, moglie di Sergio Cosmai e Pinuccio Fazio, papà di Michele. Ascoltiamo le interviste realizzate da Francesco Rossi. Come fare a trovare ancora parole nuove di speranza? Ma le parole nuove di speranza ce li danno loro da lassù, di rinnovare di ogni volta che noi andiamo a parlare nelle scuole. La memoria bisogna mantenerla viva, il ricordo non solo di Michele ma di tutte le vittime innocenti delle mafie, di quello che è successo e di quello che non deve mai più succedere. Io giro tutta l'Italia per portare la mia testimonianza nelle piazze, nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle scuole, ma portare questa testimonianza a raccontare ai giovani quello che è successo e quello che non deve mai più succedere. Portare la mia testimonianza e invitare i giovani a non entrare nelle mani delle mafie perché chi entra nelle mani delle mafie non la vedo uscite. O è il carcere, il cimitero. Noi ci rendiamo conto, non si vede mai un mafioso che prende e gode una pensione, ma non la possiamo mai vedere perché le strade sono due. O è il carcere o se no va a finire in un legno di Mogano. Sono stati giorni particolari perché il 13 marzo è la ricorrenza di questa tragedia che ha colpito la comunità bicegliese, la sua famiglia, ma l'Italia in genere. Dopo tanti anni che ricordo si può ancora testimoniare? Ma guardi, pare che proprio dopo tanti anni il ricordo sia ancora più forte che il giorno successivo, se così possiamo dire. Un po' perché l'Italia è cambiata dopo il 93 e quindi dopo i due grandi attentati è nata una diversa sensibilità. Un po' perché anch'io ho acquisito la consapevolezza che non potevo vivere questa tragedia privatamente come ho fatto per lunghi 20 anni, anche perché non sono stata assolutamente sollecitata a fare diversamente. Poi grazie a Libera, grazie a questa consapevolezza che è nata, abbiamo deciso di metterci in gioco. Per cui, proprio constatando questa grande adesione, l'adesione è sempre crescente a questo movimento di memoria e di impegno, ho deciso che va bene, sì, che si doveva proprio continuare, anche se è sempre doloroso, è sempre estremamente coinvolgente, impegnativo, insomma è duro. Grazie. Grazie.